Un saluto a tutti ragazzi sono Wolf e benvenuti in questo nuovo video Ci sono qui su GTA 5 per mostrarvi una nuova mod Non a caso siamo qui appunto perché bisognerebbe andare veramente lontanissimo Cioè nel senso che tipo noi dovremmo andare in questa posizione qui A prendere praticamente, a trovare praticamente una zona molto molto interessante Dove dovrebbe trovarsi una base militare abbandonata, segreta, dentro l'acqua Cioè immaginate il bordello eh Prima però bisogna fare tappa proprio qui, in questa zona qui Perché ci serve una barca Perché ragazzi è veramente profonda la zona e quindi bisognerebbe avere per forza Ma proprio incondizionatamente una barca, per forza Passiamo per di qua? Va bene Ok, scusate, minchia, distrutto qualsiasi cosa Ok fammi passare Ok si sta andando ad una velocità piuttosto basilare Occhio, destra No veramente, a parte che è crashato Ok ragazzi siamo subito partiti qui Direttamente almeno siamo vicini, possiamo partire subito E dov'è il nostro progetto? Non so precisamente dov'è che si trovi Ecco sì, a sinistra Cavolo no, ho sbagliato proprio zona Allora, aspetta un'idea, un'idea Andiamo qui a destra e ciao Non ci pensiamo più Scusa, ok Non so dove passare sinceramente Rompo il cavolo a tutti Ok, lo lasciamo così Oh, perfetto Però non so Oddio, quelli tipi si stanno allagando Ma che cavolo Ragazzi vi prego, notate questa cosa che è bellissima Stanno mangiando e stanno affondando contemporaneamente Si salta qua sopra e si entra e si parte Perfetto Ora si può andare verso l'ignoto Che dovrebbe trovarsi più o meno in questa zona Il motivo per cui ho preso una barca è perché questi qui ti danno le imbragature subito praticamente È l'unico motivo per cui l'ho presa sinceramente era utilissima ragazzi, ragazzi è una cosa utilissima Il problema sapete qual è? Che bisogna fare tutto quanto il giro della zona perché non si può andare direttamente lì Se no si finisce nell'aeroporto e quindi non va bene Occhio all'acqua ma la posizione non riesce ad andare dritto eh Ok, madonna le onde quanto sono gigantesche Oh ma ci siamo Oh madonna le parti con un aereo Ok ci siamo quasi Perfettamente No perché mi ero perso un attimino Va bene Andiamo solamente dritti ragazzi Bisogna andare solamente qua dritto e fermarci a un certo punto Vedremo un attimo dov'è che ci si può fermare perché sinceramente l'acqua mi dà fastidio a me Dannazione Siamo abbastanza vicini mi sa eh Per dire Eh infatti No guarda dov'è Ma davvero dov'è essere lì Non me lo ricordavo lì Piuttosto me lo ricordavo più qui sinceramente Sì va bene qui va bene qui va bene ok Perfetto Ragazzi ora ci fermiamo qua sotto Quando siamo vicini aspetta aspetta Lo fermiamo proprio là sopra Almeno abbiamo un'idea di dove fermarci ok Siamo arrivati Perfetto ragazzi Ah ora si può uscire e abbiamo tutte le imbragature per poter scendere Perché stiamo cadendo Oh mio dio Ragazzi stiamo cadendo Ah ok perfetto Cosa diavolo Siamo ancora tutti precisi però comunque nonostante ciò E quindi ora dovremo avere l'ossigeno E qui c'è una Oh mio dio una base militare Ok perfetto Il problema è Cosa un delfino Ok No il delfino va bene solamente che l'ho visto molto di ciao Ciao delfino Mi sta guardando proprio E dove diavolo entro Eh aspetta Cerchiamo di entrare da sopra Oh cavolo Perché ho tutti questi segni Oddio Mi stanno sparando Mi stanno mirando tutti Ok cosa Oh mio dio Ops Mi stanno sparando veramente Oh ragazzi Oddio Che figata Vabbè aspetta Aspetta un attimo Cosa Ci trasformiamo in acqua e in piedi Così a caso Dai 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 Ok entriamo e facciamo irruzioni questi bastardi Abbiamo solamente questi Perché non credo che nessuno possa entrare sott'acqua Quindi siamo salvi più o meno Dai 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 Oddio che figata No ma è una figata pazzesca ragazzi Siamo veramente Potevamo farlo in modo più infiltrato Però purtroppo ci è andata male Non si può rompere un vetro Ahia mi stanno sparando Da dove Bastardi Tutti c'hanno i mitra Ma anche i professori Ma che cazzo Anche gli scienziati c'hanno i mitra Headshot Bastardi Figli di puttana Morite tutti Madonna quanti Qua Mio dio Ah c'ha 100 colpi Ecco perché Infatti dicevo non finiva più Questa bagga greciata Vabbè non importa Ma dove si entra Oh mio dio sono tantissimi ragazzi Ah si entra da sotto Ma mica l'avevo capito io Perfetto Iniziamo subito Saltiamo ragazzi Yeee Si entra sott'acqua ragazzi Non bisogna farci sparare naturalmente Evitiamo Evitiamo Ah ok ok Allora siamo giù Stiamo scendendo Ora bisognerebbe salire Ok si ci siamo quasi Oh mio dio guarda quanti cadaveri Ma quanti cadaveri Ma che storia Comunque funziona bene dai Ok siamo arrivati in acqua In aria E in cielo Madonna santa Madonna santa Madonna santa Madonna quanti sono Oddio quanti sono Wow Guarda quanti sono Tutti quanti a spararmi Ma non ci posso credere Aspetta Oddio non va avanti ai barili esplosivi Grazie Oh cavolo Dove sono questi altri ora Mettiamo la terza persona Perché non si capiva niente Madonna santa Questo posto è strano Oh mio dio Cosa diavolo sei tu Vabbè non importa Andiamo avanti Dio non si può salire da qualche parte Oh mio dio Ok perfetto seccavo Magnifico Stiamo andando bene dai Cioè non so Per la nostra prima irruzione Stardy guarda come sono Ok perfetto Ricarichiamo Prepariamoci Oh mio dio Guarda quanti sono Anche da lì Madonna santa Ok perfetto Siamo dentro Siamo dentro Occhio Oh mio dio Ragazzi mi sto glitch Ok mi sto glitchando Ok sono morti tutti Non lo so sinceramente Oh mio dio Guarda come Guarda dei glitch strani Guarda quanti sono No ragazzi Sono troppi Sono troppi Wow 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 Sono troppi Veramente Ok questo qua lo stecchiamo con L'accetta L'accetta Yeah no l'ho mancato Grandioso Oddio guarda quanti sono sopra Wow 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 Sopra sono troppi Sono troppi sopra E poi si glitcha troppo la visuale Vedo meglio metterlo in prima persona Perché la terza persona Si smicchia qui dentro Oh cavolo Bastardi guarda che Sono ancora vivi Ok non importa Lasciamo stare E dove si sale noi Oh wow wow Ehi ciao Dio santo Muori bastardo Boh spero vada bene qui Dai dai corri 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 Oh cavolo Quanti quanti sono Oddio sono troppi Sono troppi Sono troppi Sono troppi Ora quanti sono questi Cosa Prima muoiono e prima mi lasciano in vita Dai E questi cosa sono Zombie Perché Ah ma sono vetri Oh mio dio non l'avevo mica capito io Mi siete a vedere Oh ma dio ma qui ci sono le uova Ah Oh ma chi è che mi spara ancora Qualcuno mi sta sparando Ma non capisco chi Bastardi dove sono Non li vedo È tutto smitragliato sto posto Quindi non si capisce niente Madonna santa È qui Ah no Non è qui È giù Ah è giù E mica si capisce però Dio buono È poco intuitivo sto posto Ok si può saltare da qui Sì Si salta Magnifico Tardo Ah non riesco a ucciderlo Va bene Ora ci penso io Dai Ora Dai non ce la fa Oh sì L'ho preso Madonna Non è morto Non era quello può darsi Opla Perfetto Dove diavolo sta Boh non capisco C'è uno che è sopravvissuto Però non lo vedo Dove diavolo sta Ma l'ho sparato finora Lo sento ma non lo vedo No ma è una cosa pazzesca Vi giuro ragazzi È difficilissimo da trovare Ah ma lo sbirro anche lui Madonna Non capisco dove sta Madonna ci sono anche gli elicotteri Sopra di noi Che ci stanno cercando Ragazzi Vi rendete conto Dove diavolo sono Ah vedo l'elicottero Eccolo Stanno fuori però Quello è questo Tu non ci arrivi Oddio Oh mio dio Cos Vabbè lasciamo stare Ok Non è roba da superficie Ok Almeno noi non siamo Della superficie Ok Siamo allo stesso piano È lui Per forza È l'unico Dì è bastardo Fermo Paraccio Ok Morto L'ultimo è andato Perfetto Abbiamo preso il controllo Di tutta quanta la base militare Abbiamo 5 sede di ricercato E manco poco E da dove si scende Purtroppo qui non spawnano Quindi abbiamo praticamente Demilitarizzato la zona E rubata proprio Direttamente Stupendo Da qui si vede tutto quanto Ragazzi guardate Quell'elicottero ad esempio Aspetta Voglio vedere se riesco a prenderlo Con un missile Ahia ok No scherzavo Va bene Da dove si sale Scusatemi Aspetta Perché c'era Il test degli zombie alieni Cos'era Perché ci sono delle uova Aliene E tipo cos'è sto posto Aspetta se non l'ho Non l'ho visto Perché tipo scappavo subito E questi zombie Ah questi zombie si possono uccidere Wow Perfetto Questo non lo sapevo Mi salta Yeee Oh yeah Bastardi Bastardi Ok Uccisi tutti i zombie Perfetto Ok perfetto E non c'è nessuno che mi sta cercando Oh si Oddio guardate come sono Aspetta voglio vedere se riesco a prenderli con questo Aspetta Aspetta Eccolo Buttaco giù Magnifico siamo su tacco Quindi non ci possono beccare No ma che è una figata pazzesca ragazzi eh Poi da qui è tutto glitchato Quindi si può vedere tutto quanto Quello che non si dovrebbe vedere Qui non si può rovinare Oddio ma cosa li ho Oddio ma si può sporare Guardate Pam L'ho preso Oh mio dio No questa cosa è strana Non dovrebbe farlo Però lo fa Va bene ok E noi da dove si entra Allora qua ci sono due vedette No uno due Tre quattro Quattro vedette scusate Ando per farvi una piccola anteprima di com'è la zona Allora Vedete sono Oh mio dio guarda quest'acqua cos'è No bellissima Tutta colorata Ok qui è retto solamente da questi Boh È retto bene però dai Cioè comunque Aspetta vediamo un attimo gli interni Come sono Qua si è fatto una strage ragazzi No veramente è stata una cosa pazzesca Mi ricordo nel mini C'era scritto Se premi il tasto N Riappaiono tutti quanti Ecco infatti Ho sentito già le urla Perfetto Sì sono tutti quanti qui Eh non mi sparate grazie Sono abbastanza lontano Sì dai sono abbastanza lontano Guardate quanti sono Mi stanno tutti aspettando Guarda sono tutti qui Guardate sono tutti aspettando Madonna Vabbè Stanno tutti aspettando che io scenda Però naturalmente non scenderò Qua ci sono ancora gli zombie Cosa Come fanno ad essere qui Oddio Sono partiti i zombie Cosa diavolo è successo Vabbè ragazzi Proviamo allora vai Facciamo un secondo tipo di combattimento E proviamoci Bastardi Bastardi Ok No mi hanno visto Mi hanno visto Mi hanno visto Mi hanno visto Perché gli scienziati hanno le armi Ancora sta storia Vaffanculo No Non mancate Poi sono io ad avere l'attrezzatura Aliena Il bello è questo Bastardi morite Ok Stanno progettando cos'è Un virus per gli zombie Non so Non ho capito Purtroppo non riesco ad entrare Da qui dentro Oh mi stanno sparando ancora Ma ancora Cioè ci provate Io mi respano qui E vaffanculo Eh dai Entra dentro Entra dentro Uccidili tutti Uccidili tutti Ok Qua gli zombie non ci sono No è perché gli ho tolto il pavimento Prima per sbaglio Poi ci sono le uova Vorrei distruggere le uova Vabbè non si può fare Mi stanno sparando Eccoli Oddio Bastardi 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 Dove diavolo sono gli altri Eccolo Guarda questo Eh ciao Muori bastardo Bastardi Oh mio dio E poi sono glitchatissimi Si glitcha in una maniera pazzesca Sti affari Guardate E qui sta tutto chiuso Ah ok Bastardi Allora posso vedere se riesco a fare questa cosa Sì lo sono riuscito a fare Perfetto Dai Dai sei ancora vivo Lo so già È morto Magnifico Perfetto Ah no però ci sono ancora Altre nemici Ah si può scendere Sì si può scendere ancora di più Aspetta dov'è che si può scendere Dai dai bastardo Mori 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 Ok perfetto Ucciso anche lui Dove diavolo si fa Aspetta aspetta andiamo qui in fondo E riusciamo a vedere qualcosina Wow non mi spari bastardo L'ho mancato io Vabbè Mori Ok grazie Cisi tutti No aspetta ne mancano altri Tra l'altro alcuni li abbiamo lasciati sopra Da quel che vedo Non morirò mai Bastardi Ok perfetto Oh mio dio Oddio non riesco a prenderlo Ragazzi si è glitchato questo qui Maledetto bastardo Ok perfetto Aspetta voglio vedere un attimo se riesco a prenderlo Niente Bastardo Niente Posso prenderlo da qui Mi sa che ce la faccio dai Preso Preso qualcosa Si ho preso Gli ho presi Gli ho uccisi grandioso Con le granate Va bene era quello che volevo fare ragazzi Comunque vedete qui c'è tipo una grande piscina Dove tipo ci si può buttare Si può entrare ed uscire Qua ci sono anche le maschere Figo però come cosa Figo mi piace Mi piace ragazzi Oddio Quest'affare però Questo busto ragazzi è veramente glitchatissimo Oddio ragazzi Ancora con questa mappa glitchata Però comunque non possiamo fare nient'altro Che godercela tutta quanta Naturalmente ragazzi Nel caso vogliate scaricare la moda In descrizione in questo video Noi ci vediamo in un prossimo video Un saluto da Wolf E bella a tutti Ciao 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 Grazie per la visione!